Bentornati su quelli iene sul tubo con la nostra rubrica malati di fantacalcio e sempre in collaborazione con Sanio Sport 2.0 e con il supporto degli amici della pagina facebook football evolution in fitness andiamo a vedere quelli che sono i giocatori consigliati e sconsigliati per questa ventitresima giornata di campionato partiamo subito Sampdoria Torino apre questo ventitresimo turno sabato alle ore 18 Doriani reduci dal grande successo esterno ai danni della Roma che vorranno confermarsi tra le proprie mura per provare a sognare un piazzamento nell'Europa che conta Granata dal Cantoloro in gran forma dall'arrivo di Mazzarri in panchina che faranno di tutto pur di tornare a casa con un nuovo risultato positivo in entrambe le squadre spazio un po' a tutti i giocatori avete nelle vostre fantasquadre su tutti nella Samp Torreira Ramirez e Zapata Quagliarella come scommessa data l'incertezza sulla sua titolarità insieme a Caprari da evitare per questa gara la difesa rischio Malus nel Torino invece da schierare in particolare Falke e Niang mentre Belotti e Berenguer come scommesse data anche qui la non certezza della loro titolarità da evitare anche qui la difesa Inter-Crotone in programma sabato sera alle ore 20.45 padroni di casa a cui manca la vittoria da ben sette giornate che sono chiamati tra le mura di casa a ritornare a conquistare i tre punti per rimanere attaccati alla zona Champions ospiti con quattro punti conquistati nelle ultime due gare che proveranno a non tornare a casa con un nuovo risultato negativo nell'Inter spazio a qualsiasi giocatore abbiate nella vostra rosa su tutti Candreva, Perisic e Leder tra i più quotati per quanto riguarda la zona bonus Brozovic come possibile scommessa, il Crotone fiducia da dosare, sia Ricci e Trotta Benali e Budimir solo come scommesse, da evitare se potete tutti gli altri Hellas-Verona-Roma Primo match di domenica in programma alle ore 12.30 Hellas reduci dalla pesante vittoria sulla Fiorentina che riaccende le speranze salvezza chiamato a riconfermarsi tra le proprie mura giallorossi a cui manca invece la vittoria da ben sette gare che faranno tutto per tornare a conquistare i tre punti e rimanere così aggrappati alla zona Champions Nel Verona fiducia in Romulo, Petkovic e Matos Verde solo come scommessa, da evitare se potete tutti gli altri a rischio malus Nella Roma provate a dare fiducia a qualsiasi suo giocatore abbiato nelle vostre rose su tutti Kolarov, El Sharawi e Dzeko, tra i più accreditati in zona bonus Pellegrini e Dunder come possibili scommesse Atalanta-Chievo Apre il filone di partite in programma alle ore 15 Orobici che non vorranno fallire nuovamente un match casalingo dopo quelli di Cagliari e Napoli per poter proseguire la marcia alle zone alte della classifica Clivenzi in piena crisi a cui manca la vittoria da ben otto gare che proveranno a fare di tutto per non tornare a casa con l'ennesimo risultato negativo Nell'Atalanta spazio a qualsiasi giocatore abbiato nella vostra rosa su tutti Cristante, Ilicic e Gomez tre più quotati in zona bonus Cornelius come scommessa a gara in corso Nel Chievo si avvirse d'inglese Radovanovic e Pucciarelli solo come scommesse da evitare se potete tutti gli altri Bologna-Fiorentina Match complicato per entrambe le compagini separate da un solo punto in classifica Padroni di casa con una sola vittoria negli ultimi 4 partiti che faranno di tutto per non incorrere in un nuovo risultato negativo Viola reduci da due pesanti sconfitte chiamati a tornare alla vittoria che manca da 4 gare Nel Bologna fiducia nell'attacco composto da Palasio, Destro e Di Francesco Zemali solo come scommessa da evitare la difesa a rischio malus Nella Fiorentina si abbenassi Chiesa e Simeone Teroggi e il Diaz solo come scommesse da evitare Hugo e Badel a forte rischio malus Cagliari-Spal Sfida salvezza di non facile previsione che mette di fronte un Cagliari a cui manca la vittoria da 3 gare invischiata nella lotta per non retrocedere ed una Spal con all'attivo solo 3 punti nelle ultime 5 gare ed in piena corsa salvezza In entrambe le squadre provate a dare fiducia un po' a qualsiasi giocatore abbiata nelle vostre fantasquadre su tutti tra i più papabili per quanto concerne la zona bonus per i padroni di casa Barella, Gioho, Pedro e Pavoletti mentre per gli ospiti Viviani, Paloschi e Dante Nucci Juventus-Sassuolo Bianconeri chiamati alla vittoria per proseguire la rincorsa alla vittoria della classifica Nero-verdi dal canto loro che non vincono da 4 gare e proveranno a fare di tutto per non tornare a casa con un nuovo risultato negativo ed evitare di rimanere invischiati nella lotta per non retrocedere Nella Juventus fiducia in qualsiasi giocatore abbiate nelle vostre rose su tutti Douglas Costa Higuain e Manzuvic per quanto riguarda la zona bonus nel Sassuolo fiducia da dosare sia Berardi e Politano Babacar solo come scommessa da evitare se potete tutti gli altri Udinese-Milan Friulani reduci dalla vittoria ai danni del Genoa che proveranno a dare continuità di risultato per alimentare il sogno di conquistare un piazzamento in Europa Rossoneri reduci dal canto loro da 3 vittorie consecutive che faranno di tutto per continuare la scalata ai piani alti della classifica Nell'Udinese fiducia nei vari Jankton De Polla e Lasagna Barak e Maxi Lopez solo come scommesse da evitare Angelo e Fofanà a rischio malus Nel Milan sia che sì Buonaventura Ciananoglo e Xuso Kalinci e Cudrone come possibili scommesse da evitare Romagnoli e Rodríguez a rischio malus Benevento-Napoli Derby campano in programma alle ore 20.45 Sanniti reduci da due stop consecutivi che tra le mura di casa proveranno a fare di tutto pur di ottenere un risultato positivo che potrebbe ridare speranze in ambito salvezza Partenopei che dal canto d'oro non potranno permettersi passi falsi per avere la certezza di rimanere in testa alla classifica Nel Benevento fiducia ovviamente da dosare sia Guilherme e Coda e Alessandro solo come scommessa da evitare se potete tutti gli altri Nel Napoli fiducia in qualsiasi giocatore abbiata nelle vostre fantasquadre su tutti Allan, Amsic ed il tridente d'attacco i quali potrebbero portarvi tutti importanti bonus Zieliski come scommessa a gara in corso Lazio-Genoa chiude questo ventitresimo turno lunedì alle ore 20.45 Bianco-Celesti retici dalla sconfitta subita per mano del Milan che faranno di tutto per tornare alla vittoria e mantenere il terzo posto in classifica Rosso-Blu retici dal canto d'oro da due K.O. consecutivi che sono chiamati ad ottenere quantomeno un risultato positivo per non essere imbischiati nella lotta per la salvezza Nella Lazio fiducia in qualsiasi giocatore abbiate nelle vostre rose su tutti Luisa Alberto Felipe Anderson ed Immobile tra i più accreditati a regalarvi bonus Nani come possibile scommessa Nel Genoa si è Tarab Tepandev da evitare la difesa ad elevato rischio Malus La Padula come scommessa a gara in corso Passiamo adesso a quelli che sono i portieri consigliati e sconsigliati per questa ventitresima giornata di campionato Andanovic Alisson Berisha Buffon Reina e Stracoscia sicuramente da schierare considerando il basso coefficiente di difficoltà dei loro match almeno sulla carta se non avete migliori alternative affidatevi allora ai vari Mirante Sportiello Cragno Meret Bizzarri Donnarumma da evitare almeno per questo turno i restanti Viviano Sirigu Cordaz Nicolas Sorrentino Consigli Brignoli e Perin Non dimenticate infine di lasciare un like e soprattutto di iscrivervi al canale se volete sbancarne la vostra fantalega lasciando un commento sotto il video per ricevere tutti i consigli per le vostre formazioni raccomandandovi di restare sempre aggiornati fino all'ultimo minuto su eventuali importanti aggiornamenti di formazione e da quelli viene sul tubo è tutto appuntamento ai prossimi video